Questo è lo scenario a cui si assiste durante una passeggiata per il lungomare Zara di Giulianova in uno dei giorni del weekend allungato appena trascorso. Non si può non notare la sporcizia e alle volte anche l'abbandono in cui versano alcune aree, proprio a ridosso degli stabilimenti balneari. D'estate curata, viva e gioiosa, già in autunno, spenta e sporca. Come mai? Si chiedono i cittadini, ma anche e soprattutto coloro che nelle giornate festive vorrebbero godersi il profumo e l'aria di mare e invece si ritrovano di fronte a questo scenario che lascia l'amaro in bocca. Un fiore all'occhiello della costa adriatica abbandonato a sé nonostante le tante promesse di rinnovo e di decoro, senza considerare l'atmosfera già tetra per via di mostri come la colonia Rosa Maltoni Mussolini e il patrimonio abbandonato della asla di Teramo. Il ruolo di Giulianova deve davvero rimanere relegato a cittadina estiva?